I soldi ci sono perché, anche quello che dicevamo prima, molto spesso tante strade sono gestite a livello comunale e provinciale quando esistevano ancora le province intese come le intendavamo fino a qualche mese fa. Stessa cosa i comuni. I soldi ci sono perché ci sono tanti comuni che i soldi li hanno e per il patto di stabilità li devono tenere bloccati. Conosco tanti comuni virtuosi che potrebbero domani iniziare a sistemare le scuole come Dio comanda e sistemare le strade. Parlavamo prima di Milano ma ci sono tantissime città, tantissime realtà, anche molto più piccole che hanno in cassa soldi che potrebbero essere spesi veramente nel giro di poco tempo. Basta liberarli questi soldi, basta sbloccare i patto di stabilità e decidere come utilizzarlo. Poi sul discorso scuole, sul discorso strade bisogna anche pensare che è vero il discorso del massimo ribasso ma i subappalti sono uno scandalo che a livello nazionale ha fatto storia. Solo in Italia c'è un'azienda, una ditta vince l'appalto e poi può subappaltarlo ad altre due o tre ditte e non si sa chi è responsabile. È una vergogna tutta italiana.